Oggi vi porto a fare una passeggiata per il centro di Monaco di Baviera e iniziamo da Carl Thor, una delle antiche porte del centro città. Da lì ci spostiamo poi a Marienplatz, dove ci fermiamo a vedere in funzione l'orologio danzante del nuovo municipio. Il piano superiore racconta i festeggiamenti per il matrimonio del Luca Cuglielmo V, quello inferiore invece rievoca la danza dei bottai per la fine dell'epidemia di peste nel 1517. Adesso saliamo sulla torre del nuovo municipio. Il biglietto costa 2 euro e da su è possibile ammirare Monaco in tutta la sua grandezza. Completiamo il giro visitando il museo del giocattolo. Si trova all'interno della torre del vecchio municipio, sempre a Marienplatz, e il biglietto d'ingresso costa 4 euro. Strutturato su tre piani, in base al periodo storico e dalla tipologia di giocattoli, questo piccolo museo riesce a divertire sia gli adulti che i bambini. Grazie a tutti.